Aruba propone tre tipologie di caselle, diverse per dimensione e funzionalità. La casella standard. È la nostra offerta base, una casella da 1 GB di spazio conveniente e alla portata di tutti. Consente di inviare e ricevere messaggi certificati con pieno valore legale. La casella può essere ampliata fino a raggiungere 2 GB di spazio. La casella PRO. È la nostra miglior proposta per rapporto qualità-prezzo. 2 GB di spazio casella e 3 GB di spazio archivio. Una funzionalità che ti consente di salvare e archiviare in apposite cartelle determinate tipologie di messaggi in arrivo sulla tua inbox. Dispone inoltre della funzionalità report SMS che ti consentirà di impostare l'invio di un SMS giornaliero che ti avvertirà solo nel caso in cui ci siano messaggi certificati non letti sulla tua casella. Lo spazio della casella e dell'archivio sono ampliabili in ogni momento, senza alcun limite. La casella PREMIUM. È il nostro top di gamma. 2 GB di spazio casella e 8 GB di archivio. Funzionalità report SMS e possibilità di aumentare lo spazio a tua disposizione senza alcun limite. Tutte le proposte includono inoltre la Webmail Pack, un pannello di gestione della casella, l'app Aruba Pack Mobile e altre comode funzionalità. Puoi trovare tutti i dettagli sul nostro sito www.pack.it. Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Vai al prossimo video!